Ho ricevuto stamattina una delegazione delle organizzazioni sindacali e delle RSU della Whirlpool. La Prefettura sta seguendo da diverso tempo questa problematica perché è una problematica molto rilevante sul territorio, rilevante da vari punti di vista. Ovviamente in primo luogo per la perdita di posti di lavoro in una realtà come quella di Napoli dove il livello occupazionale è un dato molto sensibile della realtà economica e produttiva. E poi è rilevante perché in questa fase di ripartenza dopo l'epidemia che ha interessato tutto il Paese in questi mesi, aggravare una situazione di perdita di posti di lavoro rischia di moltiplicare i problemi per questa realtà. Io già la volta scorsa quando mi ero incontrato con le rappresentanze sindacali dei lavoratori avevo interessato il Ministro dello Sviluppo Economico chiedendo proprio di partecipare io, il Prefetto, al Tavolo Nazionale proprio per sottolineare il particolare rilievo che sul territorio di Napoli questa vertenza è destinata ad avere.